Mascherina obbligatoria in classe anche in presenza del distanziamento di un metro. C'è massima attenzione alle misure di contenimento del contagio e di gestione di casi in ambito scolastico. In vista della prima campanella in programma lunedì 13 settembre, l'azienda sanitaria di Piacenza ha divulgato le indicazioni operative per la prevenzione dei contagi, il tracciamento dei contatti e l'isolamento. Nel caso in cui ci sia un positivo, il Dipartimento di Sanità Pubblica contatta il responsabile della struttura e referente covid ed effettua l'indagine epidemiologica, verificando l'attuazione delle misure di prevenzione. La quarantena per i contatti stretti è di sette giorni dall'ultimo contatto con il caso se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e si conclude con il test molecolare o antigenico. Per i non vaccinati o per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni, la durata della quarantena rimane di 10 giorni. Se il contatto stretto rifiuta il tampone, la quarantena è prolungata fino al quattordicesimo giorno dall'ultimo contatto con il caso e la riammissione alla frequenza avverrà anche in assenza di molecolare o antigenico. Il caso confermato di covid rientra a scuola con l'attestazione del Dipartimento di Sanità Pubblica rilasciato dopo l'esito negativo del tampone molecolare eseguito al decimo giorno dalla comparsa della positività o dei sintomi che devono essere assenti da almeno tre giorni. Se il test dovesse risultare ancora positivo o in caso di tampone positivo negli asintomatici va ripetuto dopo sette giorni. Sul nostro sito liberta.it trovate tutte le indicazioni per le scuole dell'infanzia primaria e secondaria.